Per la città di Teramo e soprattutto per la tifoseria bianco-rossa, la notizia di ieri dello stato di fermo dei fratelli Ciaccia e del sequestro del 60% delle quote della Teramo Calcio è stata come un fulmio a ciel sereno. In attesa di sapere di più sugli sviluppi della vicenda in città, ci si interroga sul futuro del club. E per capire quali potrebbero essere i prossimi scenari per la Teramo Calcio, il collega Massimo Profeta è riuscito ad intervistare l'ex presidente Franco Iachini, che ad oggi detiene il 40% delle quote. Può tornare proprietario del club Franco Iachini? Sulla carta sì, potrebbe essere, però non è così semplice perché qui c'è un solo host che decide, in questo caso l'host è la procura di Roma. Ecco il ventaglio di ipotesi però Iachini. Tecnicamente quando la società comunica l'ingresso di un nuovo socio sopra il 10% e questo è avvenuto lunedì scorso, questo lunedì, ci sono penso 20 giorni di tempo entro cui la federazione debba pronunciarsi sui requisiti di onorabilità e sostenibilità economica del nuovo socio. Qualora questi vengono accettati, il nuovo socio è a tutti gli effetti un membro per la federazione. In caso contrario potrebbe essere annullata la cessione? No, diciamo che la federazione invita la vecchia proprietà a riacquisire le quote penalizzando istantaneamente il club di due punti e dentro 30 giorni bisogna fare questa eventuale retrocessione, tra scorsi i quali purtroppo ci sarà la radiazione della società se non dovesse avvenire. Ma chi prende la decisione è la procura di Roma, in questo momento sono loro i soci di maggioranza della Terramo Calcio. Il futuro di questo club in sostanza, in sintesi, non dipende da Iachini? Assolutamente no. Ora come facilmente prevedibile l'entusiasmo dei giorni scorsi per l'arrivo della nuova proprietà ha lasciato spazio a grandi preoccupazioni per le sorti del diavolo. Un argomento molto delicato su cui i tifosi vogliono vederci chiaro. Una notizia che ci ha sorpreso è oltretutto una notizia triste, perché purtroppo mi spiace per loro, chiaramente per la situazione, perché è vero che bisognerà andare a indagare e vedere cosa è successo, però fosse stato soltanto un aspetto personale ci sarebbe dispiaciuto relativamente, ma chiaramente toccare le quote del Terramo Calcio e andare in giro per l'Italia con questa nomea, quasi quasi stiamo tornando ai tempi del 2015, e questo veramente fa male, perché non ce lo meritiamo e non ce lo merita la città. Noi come club siamo stati sempre onesti su questo, quando sono arrivati i nuovi non abbiamo fatto mai chissà che di feste, oppure li abbiamo abbracciati o meno, li abbiamo incontrati, abbiamo chiesto serietà e rispetto, il resto non ci interessava nulla categoria o meno, anche se è chiaro che la categoria fa tanto. Purtroppo sono i due presupposti dei quali noi andiamo sempre fieri, sui quali ci rapportiamo con la società, solo questi, che al momento sono venuti a mancare e questa cosa ci dispiace. Per il resto non ho proprio idea di cosa possa succedere, speriamo solo bene, ma ho qualche dubbio che possa andare bene.